scura rap per due orco di uccidoppi per un'ora c'ho la rap lì dio che palle 10 per cento è sbaglio no guarda questi lock cose strane è 2 metri e 6 si subito no sei a destra dove? via dietro che ti mangia sei a destra è la nando anche l'assaggio laser troppo qui io c'ho l'argento vabbè è la nando io sto bu però sono un po' così un po' biricchino vai è la nando c'è il takeover? no che forno come no? no perché mancheranno scudo no perché si manca poco però ancora non ce l'ho sbagli sono nervosetti questi guarda un po' di più mamma che ho fatto verde con l'animazione bruttissima oh no oh no oh my god c'è del nervosismo guarda questo guarda questo qua la presa nell'orgoglio ah fai i tuoi carri slide al bot tu la bomba ha laggato pure guarda Carlo ah di rosica no volevo vedere se veramente mi schiacciava oddio grinda eh guarda che la cpu è fortissima la cpu ti vedete sicuro no? eh vabbè gioco brutto tu fai cerchio cerchio vabbè tutti verdi i recepio ragazzi che voglio pure far giocare un po' a busco lo sento che ci è rimasto male vedete che gli altri ce la fanno eh lui no lo sai come poi se mi riesce a me aspetta 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 non andano 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 guarda che cazzo di vile che a me scrive subito al playmaker scrive tu da eh aspetta lo straffa anche cazzo dei tossici che tossici che siete che tossici che siete vado torno 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 bello bello vabbè però c'è la stessa animazione se tiro da fermo non è verde se tiro in movimento è verde se faccio il tut stop è verde la stessa antica animazione non è verde bellissima no no non me l'ha passata non abbiamo più stabile rispetto all'altra tutta un'altra storia ma se vede anche c'è anche a guardarti da fuori è molto più libero moving screen ha fatto esattamente quello che ha scritto nel nove